Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco, oggi 2 novembre, commemorazione dei defunti. Siamo stati al cimitero, soddisfatto l'assessore Speranza, il piano organizzativo ha retto. Restiamo in tema, abbiamo chiesto ai cittadini torresi come hanno trovato quest'anno il cimitero, non sono mancate le lamentele. Poi la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza, maxi sequestro di prodotti contraffatti in particolare di articoli tipici di Halloween. L'emergenza sanitaria, contagi in aumento, si dichiara preoccupato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. In chiusura lo Sport con la Turris risalgono in classifica i Corallini dopo la vittoria a Liguri nell'atteso derby con la Juve Stabia. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Assessore Giuseppe Speranza, ieri la festa dei Santi e oggi la commemorazione dei defunti qui al cimitero di Torre del Greco. Come sono andate le cose? Direi che sono andate abbastanza bene anche perché il ponte dei Santi e dei defunti è partito già da venerdì scorso. Quindi abbiamo dato la possibilità ai cittadini di poter far visita ai propri cari già qualche giorno prima e con il prolungamento dell'orario della chiusura alle ore 17, devo dire, è andato tutto nel migliore dei modi. Come lo spiegavamo, stamattina c'è stata la messa per tutte le anime scomparse dei nostri cari sul Sagrato della Chiesa. C'è stata la partecipazione del clero, quasi totalmente tutti i sacerdoti di Torre del Greco hanno partecipato a questo momento importante che la città chiede e aspetta. Ringrazio a proposito del clero per averci dedicato questa attenzione in particolare, in questo giorno particolare. Fuori programma poi c'è stato un momento di visita e di benedizione al nostro monumento ai caduti in guerra perché quest'anno ricorre il centenario del mille di ignoto e come amministrazione abbiamo ritenuto di prestare particolare attenzione ai nostri defundi in guerra che hanno sacrificato la vita per difendere la nostra patria. Come ogni anno c'è stata la partecipazione dei cittadini e il sistema della viabilità a retto. Devo dire la verità, mi congratulo anche con il comando di polizia municipale per come è organizzato il sistema della viabilità. Devo dire con franchezza che non c'è stato un momento di ingorgo, non c'è stato un momento che il traffico si è bloccato tranne che in alcuni momenti, però devo dire che nel complesso è andato tutto bene, non c'è stato ingorgo. Mi compiaccio con Chiunga e collaborato alla buona riuscita di questo ponte di ogni santi e dei defundi. In questi giorni che lei è stata qui al cimitero durante gli orari di apertura, le sono arrivate dai cittadini delle segnalazioni di eventuali migliorie, criticità o interventi da mettere in campo? Mi piace sottolineare questo aspetto. È arrivata qualche lamentela, qualche rara lamentela perché poi c'è qualcuno che ormai la spazzatura ce l'ha nella testa, scusa questa battuta, e la vede anche dove non c'è. Ma buona parte dei cittadini si sono congratulati e complimentati per come è mantenuto il nostro cimitero negli ultimi mesi. Quindi il mio ringraziamento va anche agli operatori del nostro cimitero, che con accortezza, con diligenza e devo dire anche con accanimento quotidianamente cercano di mantenere nel migliore dei modi puliti gli spazi, sia quelli a vista e anche quelli non a vista. Credo che adesso il nostro cimitero si sta avviando a diventare un vero e proprio cimitero monumentale. Il ponte è naturalmente anche l'occasione per riflettere su un anno che è passato e per ricordare i torresi che purtroppo non ci sono più. Naturalmente va ricordato che tanti nostri concittadini ci hanno lasciati per la pandemia, per il Covid. Quindi il mio pensiero da parte mia e di tutta l'amministrazione va alle tante famiglie che si sono viste sottratti dei loro cari per questo male che purtroppo ancora negli ultimi tempi serpeggia e minaccia, devo dire insistentemente. Un invito a tutti di conservare sempre le misure di sicurezza, di evitare sembramenti e di evitare atteggiamenti di imprudenza. Sicuramente passerà questo brutto momento, ci lo auguriamo tutti. Dopo sarà sicuramente più bello ritornare alla vita normale, però rinnovo l'invito. Cerchiamo di mantenere e di contenere tutte le misure di sicurezza che il decreto e le forze politiche e amministrative di polizia impartiscono. C'è chi chiede maggiore pulizia, chi più sicurezza, chi un'organizzazione più fattiva. Non mancano come sempre le lamentele a fronte del piano per il ponte di Ogni Santi messo a punto dall'amministrazione comunale per la gestione della viabilità e non solo che a retto. Affluenza forse solo in parte penalizzata dalla pandemia, ma Torre del Greco, resta molto sentito il culto dei morti. Nel giorno della commemorazione dei defunti abbiamo chiesto ai cittadini torresi in quali condizioni hanno trovato quest'anno il cimitero, le criticità e gli eventuali interventi da mettere in campo per il futuro. Quest'anno lei come l'ha trovato il cimitero? Il pulito, però dovevano aggiustare i bagni, perché l'acqua non scende, non si può spingere, non scende l'acqua, perché la gente va e non prenderà un gatto di acqua e lo mettano dentro. E per il resto? Il resto ha visto tutto a posto, quello che vengono solo di qua. Leggermente più pulito, sì. C'è qualche criticità? Più in ordine, più in ordine. C'è per lei qualche criticità da segnalare all'amministrazione? L'età ci sono, quelle non mancano, per esempio le panchine, le trovo orribili, quelle panchine di legno, e andrebbero sostituite con panchine, non so, in ferro battuto per esempio, più sobree, e quelle sono proprio da giardino di casa. Il dottore del greco è molto sentito il culto dei morti? Ma penso, chiunque abbia una persona cara, sente il bisogno, così, di fare una visita. Io vengo spesso poi, non è che aspetto il giorno dei morti, ecco. Vengo spesso e comunico con loro quella corrispondenza di amorosi sensi di cui ci parlava sui libri di scuola, l'abbiamo studiato al liceo, no? Ugo Foscolo. Lei quest'anno come ha trovato il cimitero di Torre del Greco? Io anche tutti i giorni, non posso dire come l'ho trovato. Per il ponte era in ordine, era tutto pulito? L'amendato al 100% no, comunque non è che funziona al 100%. Che cosa non funziona? Come la pulizia prima cosa. Come sempre, uno scempio. Perché? Perché vengono trascurate tante cose, poi si fa quello che si vuole, come si vuole. Fare un appello agli amministratori locali? No, no, non commenti. Signora, lei come ha trovato quest'anno il cimitero di Torre del Greco? Beh, diciamo, non come gli altri anni, perché l'affluenza, diciamo, è stata anche di meno. Però non abbiamo le comodità, ecco. Cioè? Io, mia madre che sta al lato giù, dove stanno i combattenti, non c'è una scala, non c'è nulla. Cioè, me la devo andare a cercare, oppure mi devo portare la sediolina dalle... E' questo che manca. Diciamo un po' di organizzazione, questo è tutto. Invece la pulizia? Eh, abbastanza, sì. Anche se ci doveva essere un po' di... per questi nomadi che girano, perché comunque ci doveva... Ho visto che dei custodi, l'altro ieri, li hanno rincorsi, però comunque girano, è un po' pericoloso per questo. Infatti, quando vedono le persone anziane, dico, è meglio andare via, perché non si può mai sapere, anche se la vigilanza c'è comunque, la polizia... Quindi lei chiede maggiore sicurezza? Maggiore sicurezza e in più le comodità per far sì che noi, anche venendo dai nostri genitori, dai nostri defunti, abbiamo qualcosa dove noi... Una sedia, qualcosa, una scala, non chiediamo tanto, una scala. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di una serie di interventi ispettivi operati tra il capoluogo e l'area metropolitana, ha sottoposto a sequestro 1.456.000 prodotti contraffatti o non sicuri, tra cui articoli tipici di Halloween, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. In particolare nel quartiere Barra, il gruppo pronto impiego ha sequestrato in una libreria mille giocattoli con famosi marchi contraffatti. I baschi verdi hanno anche rinvenuto 3.100 articoli non sicuri destinati ai più piccoli, come calendari e album da disegno. Nel corso di tre distinti interventi finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano, tra la zona industriale e il secondigliano, hanno sottoposto a sequestro presso empori cinesi 14.400 tra cosmetici e articoli di Halloween non sicuri, potenzialmente pericolosi per la salute, e individuato un opificio clandestino, anch'esso sequestrato unitamente a 2.200 capi di abbigliamento contraffatti, attrezzature e macchinari utilizzati per il loro confezionamento. Nel quartiere Renaccia, le fiamme gialle hanno sequestrato presso un deposito adibito al commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, macchinari per litografie, 1.900 libri di Totò dal titolo Alivella, privi del marchio Siae, 2.500 fra giocattoli, stampe e altri articoli con marchi contraffatti. Sequestri anche ad Arzano di 3.570 giocattoli contraffatti individuati proprio mentre venivano scaricati. La successiva perquisizione del luogo di destinazione della merce ha permesso di sequestrare in un magazzino all'ingrosso di Qualiano altri 260.000 articoli non sicuri. In provincia i finanzieri del gruppo Rifratta Maggiore hanno sottoposto a sequestro, tra Fragola e Sant'Antimo, oltre 855.000 trammascherine di Halloween, giochi per bambini e articoli destinati alla cura della persona e della casa di dubbia provenienza, di manifattura non sicura, potenzialmente pericolosi per la salute. La documentazione fornita e le informazioni riportate sugli articoli esposti per la vendita non sono risultati sufficienti a garantirne la genuinità e sicurezza. Nel corso di un ulteriore intervento le stesse fiamme gialle hanno notato nella periferia di Giuliano in Campania un'autovettura carica di merce ed hanno sequestrato numerosi capi contraffatti e rotoli di etichette di noti marchi ancora sigillati. La successiva ispezione presso l'abitazione del soggetto ha permesso di recuperare nel complesso oltre 270.000 capi contraffatti riconducibili a note griff di alta moda, alcuni dei quali anche con falsa indicazione di made in Italy, oltre a due macchinari utilizzati per l'applicazione delle etichette. A Poggio Marino il gruppo di Torre Annunziata ha sequestrato in un emporio cinese 260 biglietti Disney con marchio contraffatto, 24.600 tra guanti in lattice e in plastica e oltre 4.500 mascherine di Halloween. A San Giorgio a Cremano la compagnia di Portici ha sequestrato, nei confronti di un negozio gestito da cittadini cinesi, 20.300 tra capi di abbigliamento, giocattoli e articoli per la casa contraffatti e non sicuri. A Barano d'Ischia la locale tenenza sequestrato in un market gestito da cittadini cinesi, 4.000 giocattoli e accessori di Halloween non conformi. 32 in totale responsabili sanzionati, 16 denunciati dall'autorità giudiziaria e altrettanti segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. Le operazioni rientrano nell'ambito della costante azione di contrasto della contraffazione da parte delle fiamme gialle partenopee, a difesa non solo del made in Italy e della sicurezza dei prodotti, ma anche degli imprenditori onesti e dei consumatori. Contagi in aumento, necessaria la terza dose. Si dichiara preoccupato il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, sull'andamento dei casi nelle ultime settimane e rinnova l'appello alla terza dose di vaccino. Noi abbiamo una situazione che comincia ad essere preoccupante. Il dato di oggi della Campania vede 654 positivi, tasso di positivi del 5,23% rispetto ai tamponi che abbiamo fatto in Campania. Stiamo registrando ormai da due settimane una tendenza all'aumento dei positivi. Perché questo dato deve farci riflettere? Perché la metà di questi 654 sono persone non vaccinate. E quelli che vanno a finire in ospedale o in terapia intensiva sono quasi al 100% persone non vaccinate. Ma registriamo un altro 50% di questi positivi che sono vaccinati anche con doppia dose. Questo vuol dire che la capacità di protezione del vaccino si va esaurendo con il passare dei mesi. Questo vuol dire che dobbiamo prepararci ad una campagna di massa di vaccinazione con la terza dose. Io l'ho fatta venerdì scorso e come vedete toccando ferro godo di ottima salute. Dobbiamo prepararci a ripetere le vaccinazioni. anche per chi ha fatto la doppia dose. Ovviamente sapete che in Italia a maggior ragione in Campania stiamo utilizzando esclusivamente Pfizer adesso anche Moderna ma diciamo abbiamo l'uso di vaccini sicuri. Questo vuol dire che anche chi è vaccinato a maggior ragione e chi non lo è deve mantenere comportamenti di grande prudenza. L'uso della mascherina sempre al chiuso e all'aperto e attività di prevenzione igienica minima lavaggio delle mani spessissimo. Questi comportamenti sono necessari perché sono preziosi per contenere il contagio. Intanto, prorogato fino al 31 dicembre l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. La Turris si aggiudica il sentitissimo derby battendo la Juve Stabia per 2 a 1. I corallini partono a contratti e poco equilibrati. Questo consente alla Juve Stabia è di prendere il pallino del gioco e sfiorare il vantaggio in un paio di occasioni mentre la Turris risponde con folate improvvise. Nella ripresa la squadra di Caneo parte con maggiore fluidità e con un piglio diverso. Al quinto final di Pesca Giannone in una sovrapposizione interna in area di rigore che con un tiro di destro offredda il portiere Stabiese Sarri ed è 1-0. La Turris sulle ali dell'entusiasmo preme la Juve Stabia è costretta a difendersi affannosamente e questa pressione dà i suoi frutti grazie al neoentrato Loreto al posto di Santaniello che serve Giannone al limite dell'area che con un potente sinistro fulmina l'estremo difensore ed è 2-0. Tifosi in delirio per il doppio vantaggio la Turris sembra in totale controllo ma gli ospiti al 68esimo la riaprono grazie ad un gol del centravanti Eusepi abile a depositare in rete un tiro non irresistibile di Panico. Gli ospiti spingono nel tentativo di riprendere la gara e all'ottantesimo Panico con una punizione dal limite impegna non poco il portiere Corallino Perina. Nei minuti finali esce il match winner Giannone con una standing covation del pubblico Corallino che al fischio finale esplode di gioia. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it chiamare al numero 340-6561-484 la redazione di TV City è vicina alla famiglia di Nello Castaldo troppo presto stroncato all'affetto dei suoi carici mancherà la sua allegria la sua simpatia la sua voglia di vivere sentite condoglianze da tutta la redazione di TV City nonché dal direttore editoriale e amico fraterno Ciro Gaglione e amico e amico di Nello Castaldo